Una camminata contro la violenza sulle donne. In questo modo il comune di Rimini ha deciso di celebrare quest'anno il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E' per questo che il 25 novembre 2012 a Rimini ci rifiuginiamo così. Un cammino assieme, di donne e uomini. Una marcia, quasi una danza di corpi, che riempirà strade e piazze, ma non solo per un breve momento. Lo sentiamo e lo abbiamo pensato come la partenza di una maratona. L'avvio di un percorso che continuerà anche il 26 e 27 novembre tutti i giorni e di tutti gli anni. Che verranno? Cammineremo per noi stesse, per le donne che sono state fermate e soprattutto cammineremo perché a tutte le altre non si è mai più sbarato il passo. È stata l'attrice Marina Massironi a leggere questa mattina la petizione creata proprio per la giornata dal comune di Rimini, che sarà disponibile nei prossimi giorni sulla pagina Facebook della Casa delle Donne. Tra i primi firmatari, Fabio De Luigi, Giulia Innocenzi e Marina Massironi. La petizione che rappresenterà il motivo di questa camminata del 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sarà pubblicata. Si potranno trovare tutti i riferimenti necessari sulla pagina Facebook della Casa delle Donne del comune di Rimini. Ci tengo però a precisare, quella di oggi è stata la presentazione di un progetto che ha inizio adesso e che si concluderà con la partecipazione durante il pomeriggio di domenica 25. Quella del 25 novembre sarà una camminata gioiosa che attraverserà la città fino al mare, per poi ritornare in centro dove sarà allestito un DJ set. Lungo il percorso, punti di ristoro e di informazione sulle associazioni aderenti all'iniziativa. Una giornata all'insegna della riflessione, ma che vuole essere anche un segnale di positività e di speranza. In risposta al fenomeno, che come ha sottolineato l'assessore alle politiche di genere del comune di Rimini, Nadia Rossi, riempie purtroppo sempre più i telegiornali e le pagine dei quotidiani. Vorrei tanto vedervi tutti e tutte il 25 novembre in giro per le strade di Rimini. Cammineremo insieme nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Rimini sarà organizzata questa grandissima camminata per le vie della città, del centro, si andrà sul mare. E si farà anche una piccola offerta aderendo per la Casa delle Donne. Quindi io vorrei veramente che fossimo in tanti. L'offerta sarà simbolica, saranno pochi euro. Quindi aderite, venite, partecipate, camminate che poi fa bene. Dicono che non pioverà. Per cui abbiamo tutte le garanzie, vi aspettiamo.